Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, per traffico intenso, rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostandoci sulla FIP-Li, code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da entrambe le direzioni. Rallentamenti per un veicolo fermo in avaria al chilometro 36 tra Santa Croce sull'Arno e San Mignato in direzione Firenze. Sempre verso Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra La Strassigna e Firenze Scandici. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!